io faccio una precisazione maurizio parlava di proprietà maurizio detto non lo so se cambia per me la proprietà cambia rimango sempre della stessa idea perché altrimenti mi metteranno in bocca delle parole che io non ho detto per me della proprietà cambia e come e chi saranno i nuovi proprietari saranno i proprietari e dico da due anni sauditi saranno i prossimi proprietari dell'inter io ho già dei video pronti da ripassare poi vedremo se mi sbaglierò oppure no quindi giuse non ha cambiato nessuna idea giuse 10 è sempre della stessa idea non ho smettito nulla questi sono solamente degli attacchi io ricevo da gente invidiosa la nuova proprietà secondo me ci sarà e a breve non so quando ma maggio 2024 ormai è vicino per me sarà e per me saranno sempre loro quelli ho sempre detto sempre fatto un nome solo saranno i sauditi ad acquisire l'inter prego marco non ho smettito non ho smettito non ho smettito Grazie.